Buongiorno a tutti, oggi è il 19 luglio 2021, sono le ore 9, prima convocazione della prima commissione consigliare. Attestiamo le presenze dei consiglieri, Presidente Evola, Vicepresidente Omineo, Consigliere Forello, Consigliere Chimici, Consigliere Sala, Consigliere Arrini, Consigliere Ferrandelli. Considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione, si rinvia alla seconda convocazione alle ore 10.